Intervista esclusiva con Franco Maccari Il punto della situazione è quello che c'è a te Tutile amiche e amici del TG COISP Benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento settimanale Con informazione sindacale libera e indipendente del COISP Prima di passare a notizia un ringraziamento Perché sono in aumento i telespettatori del TG COISP Grazie quindi per la fiducia e perché Continuate a seguire questo sistema di informazione sindacale Unico nel panorama dei sindacati della Polizia di Stato Ormai da oltre sei anni Ma oggi parleremo con Franco Maccari E abbiamo voluto realizzare con lui Un'intervista esclusiva telefonica Proprio perché dopo quanto è accaduto Nelle scorse settimane L'incontro con Ministro Alfano Il cartello che ha parlato con una voce unica Vorremmo capire meglio Che cosa ci attende all'orizzonte Soprattutto in ragione delle numerose sfide Che sono sul tavolo E che il COISP ha abbracciato E ha portato avanti Prima e anche da solo Lasciamo quindi la parola alla regia E noi ci vediamo dopo Come promesso siamo con Franco Maccari Che raggiungiamo telefonicamente In questa settimana In cui si parla molto di polizia Si parla purtroppo di polizia Anche in termini Che non vorremmo sentire Dagli avvenimenti di cronaca Da quei nomadi che girano su una volante Fino agli scontri di Roma Da questi tifosi olandesi Che hanno devastato il centro di Roma Tutte scene che purtroppo Abbiamo già visto E che ogni parte politica Vuole attribuire a qualcun altro Poi parleremo chiaramente Anche di quelli che sono stati Gli esiti dell'incontro Con il ministro Alfano In cui il cartello Si è presentato compatto E ha parlato con una voce unica Ma lasciamo la parola a Franco Quindi una riflessione Su questo momento In cui la polizia Viene addirittura Subeffeggiata Da chi gira con una finta volante Sappiamo essere finta O questa purtroppo ormai Abitudine a trovarci A subire angherie e violenze Da ogni parte E se vengono Perché sappiamo benissimo Che se dovessimo Potessimo reagire O come quei tifosi Si troverebbero a casa loro Davanti a una polizia Molto più determinata E decisa Noi il giorno dopo Probabilmente passeremo Sul banco degli imputati Un'ora dopo Passeremo sul banco degli imputati Amaramente da una parola che dico Ci siamo abituati Per l'altra invece Deve essere stimolo di riflessione Costante Perché Si finisce Per utilizzare La parola sicurezza A seconda del mal di pancia di turno Del momento Insomma Incidenti A Roma Beh Sono esattamente Il risultato Della nostra Follia Incapacità È stato Di regolamentare Una cosa semplicissima Lo dico Con questa parola Non perché voglio fare Il banale Ma perché Più volte Ci sono stati dimostrati Quali erano Gli atti Che si doveva fare Non sono stati fatte Le norme I protocolli Tutte cose Che poi si rimangono Che continuano A venire in Italia Perché se facessero Solo la minima parte Di quello che hanno fatto In Italia Sarebbero già Dentro Tranquillamente Quelle che hanno buttato E non esagero Nel dire questo Perché poi Colanno E l'Inghilterra Sono molto sereni Con i propri Teppisti Di vulga O come vogliano chiamarli Arrivano da noi Tranquillamente Dobbiamo contare Noi seriti Noi I danni Se permetti Prima metti I seriti Anche solo Noi poliziari Seriti gravi A Roma Sono Per quanto mi possa Rispiacere Sicuramente Più gravi Di un monumento Di devastato Posto Che comunque Non va fatto Nel uno Nel l'altro Chiaramente E questo Però E l'ipocrisia Classica E poi Il sviluppo Anche Di scottori Di Perlefo Che ce li meritiamo Tutti Come italiani Perché non siamo Capati Di Mettere due regole Che possano Che possano essere rispettate da tutti Prima di tutto Si rispetta la divisa Si rispetta tutti Fuori E chi la porta E credo che chi la porta Ma rispetta già Oltre il proprio Dovere Perché Molte volte Si fa Quello che non Servirebbe O meglio Quello non sarebbe Obbligatorio Fare Ma lo si fa Anche nel fin Del proprio Intendo dire Anche proprio Economicamente Per far funzionare Minimamente Un'apparato La sicurezza La sicurezza La sicurezza che fa Veramente Pietà In questo momento Il punto più basso Che mi ricordi Dagli ultimi vent'anni Un punto più basso Di attenzione politica Di impreparazione Di incapacità di dialogo Di assoluta Menefreghismo Anche nei confronti Della gente Che mentre si grida L'appertutto Che si vuole Più sicurezza Mentre si grida L'indignazione In contestualmente La solidarietà In confronti Di stacchio Che è diventato Un simbolo Un eroe Si depenalizza L'accetto Provinci Reati Tra cui Il furto L'ultraggio Stiamo Alla follia Decisitativa Perché Facciamo follia Per essere carini In realtà Incapacità Penefreghismo Assoluto Disinteresse Nei confronti Della gente Ribellione Monale Sicuro Sicurale Anche La gente Si sa Che viene presa Per la pancia Gli odio Fondamentalmente Chi sa Prendere per la pancia La gente Gli odio Fondamentalmente Perché li ruttivitano Stumentaleziano Li stuprano Mentalmente Ed ecco Che molte volte Riviamo Perché Dei rom Ridano una volante Apparentemente Però si scopre Che è scemica Ma non importa Il fatto stesso Di farlo E passa Tutti In galleria O se fosse Una roba Non male Ci facciamo Una ricetta Sopra Non ci facciamo Una ricetta Sopra Però per niente E io vorrei vedere Se io passo In tribunale E prendo su Una toga Che è abbandonata Sul tavolo Come fanno Spessissimo Buttarla sui tavoli Le sedie O anche per terra Se me la metto Addosso Se qualcuno Non avrebbe Qualcosa Da dire E avrebbe Tutte le ragioni Per Ribellarsi E quantomeno Richiamarmi Nel comportamento È evidente C'era Una specie Di Paese Di Franceschiera Si può Frammettere Quindi Vengono Viene O c'è già O viene Da fuori Tanto può fare Quello che vuole Non paga Niente Come si può Trattare Il mare Con un cucchiaio Non lo facciamo Sarebbe Lese Maestà Se qualcuno Osasse Toccare Sedersi Al posto Di un giudice Nello scranno Più alto Di un tribunale Sono principi Che diventano Immediatamente Intoccabili Quando Si vanno Solo a sfiorare Determinate Categorie Mentre Dall'altra parte Vediamo Che non c'è Alcuna Levata di scudi Né tanto Né inomorale Né pratica Nei confronti Di chi Oltraggia Villipende In ogni maniera Allo Stato Le sue istituzioni I suoi rappresentanti Indivisa Che siamo noi Poi alla fine Ma adesso Solo dichiarazione Di parte Ovviamente È una difesa Che non è richiesta Nel senso di farla Hanno sospeso Immediatamente 16 Polizioti penitenziari Perché hanno Inneggiato O perlomeno Hanno sverfeggiato Nella socca Stupida Sicuramente Inneggiando A un detenuto Che si era Suicidato Censurati Sicuramente Moralmente Faranno incontri Anche con la procinta Ma qui si è In un giorno Ce l'ho vicino a fare Sospendere Le sedenti persone Mandare La procura Tutto L'incartamento Le rigare Lo scandalo Il ministro Che fanno intervinze No fatemi capire Ma non muore Un poliziotto Per l'attentato Per qualsiasi altra Situazione Di servizio Che compaiono Le scritte ACAP Allora va bene Nessuno reagisce Se li diamo sopra E rimangono lì Perché il comune Non ha neanche 5 lire Per far cancellare La scritta Ma qui certamente E direttamente Poi Si ripercuotono Anche nella Psiche Di chi È chiamato A portare Una divisa Mi rendo conto Che sto dicendo Una cosa carina Mi rendo conto Ripeto Che non è Che può apparire Una difesa D'ufficio Di gente Che comunque Si può dire Ha sbagliato Mi rispetto Nei concordi Delle vittime Ci deve essere Sempre Comunque Però L'ipocrisia C'erano pieni Ne abbiamo le palle Piense Però Questa è ipocrisia Non ho usato A caso Questo termine Spero Che anche la gente Abbia Le palle piene Per potersi Libellare Ripeto Non con violenza Perché noi Ci segniamo In una globa Di distrazioni Che poi Non può La scatola Mi ha un piesso Spinto Giusto Per far casino A quasi notare Io parlo Una libertà Che possa portare Chi è Deputato Eletto Nominato Incaricato Chiamiamolo Come vogliamo Sicuramente Eletto No Perché Non votiamo Chi vogliamo Comunque È incaricato Di fare Le cose Per noi Che ci sia Una mossa Una sveglia Anche Che abbia rispetto Perché non pensi Solo Proprio Che torno Conto Perché Sapore Existono Ogni volta Mafia Capitale Inciucci Targenti Insomma Teniamo violentati Anche noi Ogni volta Che vediamo Ste cose Si girano È chiaro Che Parallelamente Lo puoi fare In un'attività Di servizio Il servizio Significa Liberare La gente Da paura Anche noi Anche noi Siamo gente Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo E con il no comment Che appuntamento fisso Ormai Concludiamo Anche questa puntata Del TG Coisp Dedicata interamente All'intervista Con Franco Maccari Ma voi potete Sempre rimanere Aggiornati Su tutte le news E su tutte le attività Del Coisp Dal nostro sito internet Io vi auguro Buona settimana E ovviamente Buon sindacato a tutti Buona settimana Buona settimana